Valdagno, cambio di tendenza demografica nella cittadina vicentina che attrae sempre più cittadini da altri comuni, facendo registrare nel 2018 34 nuovi residenti. La cittadina laniera viaggia in controtendenza rispetto alla media regionale e vede arrestarsi quel fenomeno di spopolamento iniziato nel lontano 2004. A spiccare tra i tanti dati è il bilancio positivo tra chi emigra da Valdagno e chi invece vi si trasferisce, un bilancio positivo anche al netto della popolazione straniera, con 121 nuovi residenti arrivati in città, metà dei quali italiani. Altro dato rilevante è la presenza di stranieri che risulta essere la più bassa tra i principali centri della provincia vicentina, il 9,2% della popolazione complessiva, contro una media poco al di sopra del 13%.